La classifica del gruppo B degli europei under 17 recita Spagna prima ha 6 punti, seconda Slovenia ha 3 punti, terza Serbia ha 3 punti ma la Slovenia avanti per un discorso di rapporto col fatti gol subiti e ultima Italia ha 0 punti. Ieri ha giocato Italia contro Serbia con la Serbia che ha vinto 2 a 0 contro i nostri giocatori e una sconfitta che mette molto in crisi l'Italia dopo la rimonta che ha subito contro la Spagna nella prima partita del girone. Un'Italia che fondamentalmente ha totalmente espresso i mali del calcio italiano, ovviamente partendo da un concetto di settore giovanile, di ideologie di gioco non tanto di singoli. Giocatori che giocano molto, spara la porta, attaccanti che sono veramente poco incisivi, sempre questo discorso dei terzini che sanno fare quella fase offensiva clamorosa, però in fase offensiva ragazzi mancano, mancano, mancano. Poi comunque andremo a vedere un pochino i giocatori perché mi è scattato un amore. Comunque un'Italia veramente poco propositiva che ha comunque prestato il fianco alla Serbia nel primo tempo soprattutto e diciamo che i giocatori serbi se li sono mangiati sia fisicamente che a livello atletico che a livello di pericolosità offensiva. Sicuramente delle individualità, delle caratteristiche interessanti che alcuni giocatori ci sono, però è proprio la mentalità del calcio italiano che deve cambiare. Forse è stata una sensazione sbagliata mia ma ho percepito quella paura dell'osare. La giocata un po' più complicata non viene mai cercata perché fondamentalmente questi giocatori a 16-17 anni vivono di imprinting. E se magari giocano in squadre anche importanti nel settore giovanili che però portano avanti questa filosofia un pochino più sparagnina, ecco la problematica comincia a uscire fuori e bisogna correggerla. Perché adesso questi giocatori hanno 16-17 anni ma quando magari ne avranno 20-21 si troveranno magari come giocatori incompleti che gieranno tra B e C, serie B e serie C intendo. Quindi sono veramente da correggere certe cose nella mentalità del calcio italiano. Poi ripeto, vedere un pochino le individualità, però rispetto alla Serbia, la Serbia l'ho vista più squadra, molto più squadra. L'Italia invece si basava molto sulle individualità, pochi movimenti senza palla o movimenti fatti male perché una mezzala, come faccio esempio Mendicino, in un 4-3-1-2 di Corradi, tu devi dettare il passaggio col movimento in profondità, ma non che quando magari il mediano ha palla tu già stai avanti. Perché poi non è un movimento senza palla, è un movimento senza palla fatto anticipatamente e con i tempi sbagliati e costringi magari il mediano a doverti fare un passaggio di 30 metri col serio rischio di sbagliare. Comunque la difesa della Serbia era molto aggressiva, era tipica serba, soprattutto perché l'allenatore della Serbia, Aleksandr Lukovic, che io me lo ricordo quando ero ragazzino difensore dell'Udinese, che a me piaceva tanto. Devo dire che all'epoca Aleksandr Lukovic mi piaceva veramente tanto. Però comunque andando a vedere un attimino le formazioni, ora ve le dico, insomma vi dico prima quella dell'Italia e poi quella della Serbia, l'Italia si schiera con un 4-1-2, con Martinelli in porta, difesa 4 con Magni, Vezzosi, Bassino e Pagnucco, centro campo a 3 con Mendicino, Crapisto e Romano, mezza punta De Pieri e come attaccanti Ragnoli Galli e Rao. Invece la Serbia si è schierata con un 3-4-2-1 di Juric Maniera, con Zodic in porta, difesa 3 con la destra a sinistra, Milosavlevic, Nikola Simic e David Juric in difesa, centro campo a 4 con Vukovic, Mitrovic, Petrovic e Ciuq, i due trequartisti, Maximovic e Popovic e la punta Kvetkovic. Quindi in questa Italia, prima avevo parlato sempre di discorso dei terzini, in questo caso mi finisco a Magni. Magni ha giocato bene, però ragazzi in fase offensiva si è fatto mangiare nel primo tempo 3-4 volte dagli esterni, sia Ciuq che Popovic che giocavano dalla sua parte in maniera veramente clamorosa e non puoi. Poi per l'amor di Dio ha delle caratteristiche interessanti, un terzino moderno, ha Di Lorenzo, ha Di Marco, ha Teornandes, quindi un terzino che gioca sulla fascia di piedeforte ma che ama accentrarsi, che fa quasi un regista a stile Dani Alves, vanno di modo ormai questi terzini. Poi ragazzi devi saper difendere, soprattutto se è una squadra che non ti gioca alta, che gioca di pressing. Quindi Magni comunque mi è piaciuto, anche se, ripeto, ha questi limiti. Io ad ora vedo Magni più come un quinto, o quantomeno come un'ala tutta fascia, piuttosto che come terzino. Un altro giocatore che ha giocato da 6-6, e questo 6-6 il più l'ha guadagnato nel secondo tempo, facendo una media tra 5 e 6 e mezzo, 7 meno, è Crapisto, classe 2006 della Juventus, che giocava nella posizione di mediano. Nel primo tempo giocava troppo basso, non si proponeva, anche lui non correva a palla al piede, ragazzi, aveva spazio, aveva corridoi, non correva. Guardava il gioco, lancio di 20-30 metri. Nel secondo tempo si è mosso un po' di più, però insomma come caratteristiche mi piace molto. Mi piace molto più di Faticanti, che era l'ex mediano dell'Under 17, Faticanti più compassato, non mi aveva stuzzicato, mentre Crapisto ha dei creatisti un po' più interessanti, perché è rapido, è veloce, ha le buone geometrie, però deve anche lui smaliziarsi, quando vede lo spazio deve andare avanti, non può fare soltanto un passaggio semplice o il lancio di 30 metri. Poi fondamentalmente basta, perché De Piedi ha fatto, Romano ha fatto meno nel secondo tempo, la mezza alla sinistra, Mendicino ha fatto un po' me, De Piedi nel suo tempo è stato addirittura schierato come attaccante, ha tentato una rovesciata così alla Carlona, ma è poca... Allora, giocatori che tecnicamente hanno preparazione diversa, no? Una base tecnica un pochino migliore. Però poco squadra, soltanto individualità, nel secondo tempo è entrato Liberali, che è un'ala 2007 lui, del Milan. Lui invece ha dato quel qui d'in più, quel qui d'in più nel secondo tempo in fase offensiva, però sempre, cavolo, non c'è gioco. Tutto sui singoli, Liberali cercava l'uno contro uno, a bomba. Poi il 70% delle volte andava anche bene, magari poi se c'era la giocata scaricava, però era smaliziato, ma troppo sui singoli. Non puoi fare, tentare un dribbling, ma il compagno più vicino ti sta a 15 metri, perché se poi tu perdi il controllo del pallone, non hai nessuno che ti accorcia. E allora il difensore avversario prende il pallone, poi magari il compagno che era molto distante sbaglia il tempo di intervento, fa un fallo pericoloso, magari cicca il pallone e c'è l'azione di contropiede. E nel secondo tempo la Serbia ha giocato veramente bene di contropiede. Ora però voglio concludere con la Serbia. Squadra tosta, squadra ognosa, fisicamente più preparata, giocatore atleticamente, alcuni più pieni fisicamente, però ragazzi, segnatevi questo nome. Mattia Popovic, classe 2006, del Partizan under 17, perché veramente lui mi ricorda tanto ha la corsa alla Vlaovic, ma le caratteristiche alla Kvalascheia. Un trequartista che può giocare anche d'ala, nel 3-4-2-1 faceva il trequartista più di invertito di sinistra, nel centro-sinistra, però molte volte andava sull'ala, ragazzi, c'era a corsa, a una corsa, è un mingherlino, cioè nel senso una fisità molto longe linea, nonostante una buona statura, ma c'ha una corsa, ha uno sprint, ha una progressione che, ragazzi, in 2006, è veramente tanto, tanto, tanto importante, tanto, tanto importante. Un altro giocatore, 2007, quindi come liberali, Andrea Maximovic, della Stella Rossa, 15 anni, che gioca in Ander 17, appunto, la Stella Rossa, quest'anno ha fatto tipo 16-18 gol, una bestia, anche lui una bella fisicità, bella corsa, e è stato colui che è stato il primo gol, tra l'altro, i due assist per i due gol li ha fatti entrambi, Popovic, che giocatore Popovic, comunque Maximovic, anche lui interessante, 15 anni, e segnatevi, contatto di scadenza nel 2025, si potrebbero sviluppare discorsi interessanti su di lui, anche lui una mezza punta, un po' più centrale rispetto a Popovic, secondo me, non ha lo sprint per fare l'esterno, per ragazzi, è uno che si muove in verticale, che sa inserirsi ben in area, che ha anche lui quella capacità di smarcarsi, bravo, bravo anche Maximovic, e poi il terzo, un altro 2007, che ha fatto un po' il lavoro scuro, Nicola Simic, anche lui che ha il 2007, e compagno di Popovic, nel Partizan Under 17, anche un difensore roccioso, che fa essenziale, e lo profitto addirittura a Milosavlevic, perché Milosavlevic è un po' rischiato, con alcuni interventi, è stato ammunito, è rischiato anche di procurare un rigore, che secondo me c'era, con seconda munizione, quindi espulsione per Milosavlevic, però Milosavlevic è ancora troppo istintivo, Simic è più di posizione, c'è un bel tempismo negli interventi, nelle uscite, bravo, un 2007, ma comunque anche i centrocampisti, quindi Petrovic e Mitrovic, hanno fatto veramente bene, lavoro scuro, lavoro di sostanza, soprattutto Petrovic anche di inserimento, diciamo Petrovic era l'ilic della situazione, mentre Mitrovic era il linetti, o meglio, diciamo il rincon, non perché come gratuito, disse che sia come rincon, però quel centrocampista retrato, che fu un po' più gioco difensivo, un po' più da bilanciere, insomma, dell'economia del gioco, quindi per non fare, scuidi bene troppo la squadra, ovviamente la partita potrebbe finire anche 4-0, perché importa l'Italia, è un certo Martinelli, Tommaso Martinelli 2006, della Fiorentina, titolare della Primavera, e secondo me se il tanto compianto Mialovic fosse ancora vivo, l'avrebbe già messo in prima squadra, perché Martinelli ha un livello di preparazione fisica, di concentrazione e tecnico, vi dirò, secondo me a pari età, superiore anche a Donnarumma, quando aveva insomma la sua età, quindi 16-17 anni, ma è veramente importante, veramente importante, sui gol non ha colpe, ma ha salvato altrettanti due gol, uno se non mi ricordo appunto su Petrovic, tiro di Petrovic, e quell'altro non mi ricordo, nella ripresa, mi pare su Botic, comunque due o tre palle a salvate, ovviamente adesso vedrò se riuscirò anche a seguire l'ultima partita, che è molto importante, perché l'Italia, dipenderà insomma, se vincerà o meno contro la Slovenia, e soprattutto dal discorso dei gol fatti, i gol subiti, perché quella sarà discriminante, per qualificarsi o meno, alla fase successiva, l'Italia europea on del 17, ovviamente fatemi sapere qui sotto, cosa ne pensate, se conoscevi i giocatori, se avete visto la partita, perché mi farà piacere sentire anche i vostri feedback, vi mando un abbraccione, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Ciao!